ah 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 benvenuti e bentornati amici e fenauti eccoci qui a un anno esatto dalla nascita di f4 e così insieme ad f4 alla nascita anche di questo canale youtube è stato un viaggio lungo ma il tempo è volato in quest'anno abbiamo fatto un sacco di cose ma le abbiamo anche viste tantissime ma una in particolare tra queste mi ha colpito e voi sapete che non sono una persona che si limita al primo sguardo perché mi piace sempre guardare da un'altra prospettiva perché soltanto così si scoprono delle cose interessanti e ho notato che molti si innamorano della fotografia però poi bam la buttano via come fosse una vecchia macchina fotografica usa e getta e lo fanno già entro il primo anno da che hanno iniziato in questo caso il video è per voi che avete messo da parte la vostra nikon la vostra canon oppure quello che è ma sentite dentro ancora un battito forte perché diciamocelo la fotografia un pochettino come il primo amore non si scorda mai ma questo video anche per voi fotografi che siete già un po più navigati perché scommetto che anche voi conoscete qualcuno che ha mollato e quindi condividete con loro questo video perché potrebbero tornare a fotografare sono anche sicuro che poi vi ringrazieranno prima di tutto voglio tranquillizzarvi su una cosa molto importante e cioè se avete abbandonato la fotografia non è colpa vostra e scopriremo quindi anche chi sono i cattivi di questa storia scopriremo insieme in questo video chi o cosa ha determinato la vostra ritirata forse avrete pensato di non avere talento oppure di essere negati ecco spoilerò subito il contenuto di questo video non è così perciò mettete un bel like al video iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e andiamo a scoprire insieme come rimetterci in gioco dopo la sigla perché adesso ce l'abbiamo iscriviti al canale partiamo dai problemi che vi hanno fatto mettere da parte la fotografia e vi hanno fatta mettere in un cassetto spesso ci si confonde sempre tra il fotografo professionista e il didatta l'obiettivo di un buon didatta è quello di trasferire un'abilità ad un'altra persona mentre la bravura di un bravo fotografo si vede dalle sue fotografie ecco l'abilità di un didatta si misura invece dai risultati dei suoi studenti e purtroppo a volte ci ritroviamo sommersi da mille nozioni ma nessuno si prende la responsabilità se non otteniamo dei risultati perché queste persone si limitano a dire non ti impegni abbastanza ma a volte il problema è proprio di chi insegna e anzi se è capitato anche a voi scrivetemelo sotto nei commenti perché mi interessa conoscere le vostre storie il secondo problema poi è quello dei falsi miti e cioè per imparare a fotografare devi iniziare ad utilizzare una macchina fotografica a pellicola e se avete incontrato anche voi persone che vi hanno detto una cosa del genere capisco benissimo perché avete mollato perché so che effetto fanno queste stronzate il terzo problema invece è tipico dei nostri tempi di questo millennio perché ovunque vediamo gente che sembra riuscire in tutto quello che fa in maniera molto facile e ci riesce soprattutto sui social ma la verità però è che tutti quanti ma proprio tutti quanti hanno avuto gli stessi vostri problemi gli stessi vostri dubbi all'inizio se ne parlo bene in un video che vi lascio qui da qualche parte con il bias nella sopravvivenza sappiate però che per riassumere i vostri idoli hanno faticato tanto quanto voi questo dovrebbe almeno motivarvi o quantomeno farvi vedere il percorso di crescita e distruzione come una scalata non più impossibile ecco fino a qui nessuno di questi problemi era una vostra responsabilità e quindi dovete imparare ad essere un po più gentili con voi stessi permissivi e anche clementi con i vostri sbagli e i vostri fallimenti il quarto problema invece però riguarda proprio voi e riguarda i dubbi che avete quelli personali come non ho tempo sono troppo vecchio per iniziare oppure non ho talento tutte minchiate perché iniziare a 60 anni oppure a 10 è esattamente la stessa cosa anzi iniziare a 60 anni è il vantaggio che è una scelta piuttosto che un semplice gioco ecco adesso è arrivato il momento della vostra rivalsa avete capito bene avete avuto sfortuna incontrando le persone sbagliate nel vostro cammino ma adesso è il momento di mostrare di che pasta siete fatti di cosa siete veramente capaci e di dimostrarlo non soltanto agli altri però ma anche e soprattutto a voi stessi quindi siete pronti adesso a riscattarvi con la fotografia allora mettiamoci comodi perché il video sarà lungo lo so ma noi di f4 siamo qui per voi per affrontare insieme questo viaggio e nostra intenzione infatti offrire gli strumenti di base per scattare fotografie sempre migliori e allo stesso tempo per rendervi autonomi e non più dipendenti dagli altri ricordatevi sempre una cosa se cercate l'approvazione degli altri non siete dei fotografi siete dei bilanci iniziamo col farvi provare ad essere perfettamente a vostro agio con la macchina fotografica che possedete e godervi perciò appieno tutte quante le vostre prossime uscite fotografiche quindi questo video è indirizzato sia ai principianti come lo siamo stati noi qualche anno fa ma anche a quei fotografi più avanzati che però magari vorrebbero approfondire la tecnica oppure solamente affrontarla da un'altra prospettiva noi di f4 siamo nati con l'idea che gli integralismi non servono a nessuno e questo è il motivo per cui non parlerò in questo video di macchine fotografiche in particolare ma parlerò di come approcciarci alla macchina fotografica che abbiamo in mano e alle scene che vogliamo catturare e quindi viva tutti quanti i brand anche perché quello di cui parliamo vale proprio allo stesso modo per tutte quante le macchine fotografiche e cioè a parte il fatto che il progresso e il fatto che oggi le macchine fotografiche sono ovunque dagli angoli delle strade sui cavalcavia dell'autostrada per farmi le volte dai telefoni che abbiamo in tasca fino alle più professionali mirrorless o reflex tutte quante le macchine fotografiche funzionano allo stesso modo perché serve la luce perché fare una fotografia altro non è che catturare la luce la luce entra nella fotocamera attraverso un obiettivo l'obiettivo all'interno è un'apertura che viene chiamata diaframma che permette appunto alla luce di entrare e colpire il sensore della fotocamera dove viene catturata e prodotta perciò l'immagine o l'immagine digitale oppure l'immagine su pellicola partiamo perciò in questo viaggio partendo dal famoso triangolo dell'esposizione ovviamente si chiama triangolo perché è composto da tre parametri se fossero stati quattro si chiamava quadrato 5 pentagono eccetera 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 ma non mi limiterò soltanto a spiegarvi che cos'è il triangolo dell'esposizione incluendo quindi i tempi di scatto e diaframmi e gli iso ma li esamineremo anche uno per uno per non incorrere nelle confusioni che troppo spesso si sentono in giro ricordatevi che tempi di scatto diaframmi ed iso sono i pilastri della fotografia per iniziare perciò vi faccio una domanda subito una domanda buono veloce quanto vogliamo che siano luminose le nostre fotografie ecco questo dipende dalla luminosità ambientale o dalla luce che abbiamo a disposizione che varia ovviamente tra una giornata soleggiata una giornata nuvolosa tra il giorno e la notte a volte il fotografo può intervenire sulla luminosità ambientale per esempio aggiungendo una luce continua oppure un flash o utilizzando dei filtri per ridurre la luce durante le ore centrali del giorno ma spesso il fotografo deve lavorare con la luce che ha a disposizione regolando perciò i parametri della macchina fotografica per ri per raggiungere quel risultato che vuole il primo parametro di cui parleremo è proprio il tempo di scatto più tempo perciò consentiamo alla luce di entrare nella nostra macchina fotografica più la nostra fotografia sarà luminosa le macchine fotografiche offrono un ampio intervallo di tempi di scatto da tempi di scatto molto lunghi come per esempio 30 secondi ma anche oltre a tempi di scatto molto rapidi come per esempio un 8 millesimo di secondo e anche oltre ma il tempo di scatto però non gestisce soltanto la luminosità perché regola anche la rappresentazione del movimento nel congelare infatti un soggetto veloce in movimento abbiamo bisogno di un tempo di scatto molto breve mentre invece per rappresentare il movimento fluido come l'acqua che scorre oppure le nuvole che si spostano nel cielo dovremo utilizzare dei tempi di scatto più lunghi il secondo parametro invece fondamentale per la nostra fotografia per l'esposizione della nostra foto e il diaframma questo regola la dimensione del foro attraverso cui passa la luce nell'obiettivo è un po ostico come parametro perché contro intuitivo perché ha un numero piccolo per esempio f2 il foro è molto aperto a numero grande tipo f16 il foro invece è più piccolo un diaframma aperto lascia entrare ovviamente più luce mentre invece un diaframma più piccolo lascia passare meno luce prendendo la foto meno luminosa ma al pari del tempo di scatto anche il diaframma ha una seconda funzione perché controlla anche la profondità di campo cioè quanto ampio è il campo di messa a fuoco un diaframma aperto darà una profondità di campo polistretta e questo è perfetta per esempio per i tratti con sfondo sfocato mentre invece un diaframma chiuso allargerà la profondità di campo e questo è ideale per esempio nei paesaggi quindi maggiore sarà la profondità di campo tanto più piccolo sarà il foro del diaframma che permette alla luce di entrare e il numero relativo sarà più alto come per esempio f8 f11 f16 eccetera e so anche che pare complicato però non vi dovete spaventare perché tanto ci ritorniamo fra un attimo adesso però voglio parlarvi dell'ultimo elemento del nostro triangolo dell'esposizione e questi sono gli iso gli iso non regolano direttamente la quantità di luce che entra nella macchina fotografica ma regolano la sensibilità del sensore oppure della pellicola alla luce ecco aumentando gli iso la foto sarà più luminosa wow sembra tutto semplice sì però attenzione attenzione è una cosa che si chiama rumore digitale cioè quella grana che può deteriorare la qualità delle nostre immagini specialmente in condizione di bassa luminosità capiamoci però in questo caso non è colpa degli iso se la fotografia è di bassa qualità ma soltanto dal fatto che non abbiamo fatto entrare luce a sufficienza ora per scegliere questi parametri modalità manuale non lasciare quindi che sia la macchina fotografica a fare tutto il consiglio è quello di partire sempre stabilendo il livello di iso minimo più basso per garantire la massima qualità della nostra immagine poi si seleziona il diaframma in base anche alla profondità di campo che desideriamo per la nostra fotografia e infine si regola il tempo di scatto per ottenere l'esposizione corretta tenendo conto ovviamente anche del movimento del soggetto e cercando di evitare il micromosso che è causato dal movimento di noi che stiamo fotografando sì perché anche noi ci muoviamo quando facciamo una fotografia e lo facciamo già soltanto con il respiro e a tutta quanto una serie di micromovimenti di cui non siamo neppure consapevoli quindi per riassumere brevemente il triangolo dell'esposizione è fondamentale per capire come lavorano insieme tempi di scatto diaframmi ed iso per creare le fotografie che vogliamo realizzare poi con la pratica e la sperimentazione diventerete anche voi sempre più abili nell'utilizzo di questo triangolo dell'esposizione potendo perciò esprimere al meglio la vostra visione creativa attraverso le vostre fotografie come promesso però entriamo più nel vivo di tutto quanto questo discorso e partiamo proprio da quel parametro che vi ho detto vi ho consigliato di tarare per primo e cioè partiamo dagli iso tempi diaframmi e appunto gli iso sono i parametri fondamentali per la luminosità delle fotografie e la loro comprensione è fondamentale per iniziare a scattare con consapevolezza e muovere i primi passi in modalità manuale oppure semiautomatica in parole povere gli iso sono un parametro dalla macchina fotografica che influenza la luminosità delle immagini mentre aumenti il valore degli iso le tue foto diventeranno più chiare e questo è particolarmente utile per esempio quando stiamo scattando in condizioni di scarsa luminosità perciò volgarmente gli iso ci permettono di fotografare anche in condizioni di poca luce senza dover necessariamente intervenire sui tempi di scatto e sui diaframmi che spesso e volentieri sono anche condizionati oppure vincolati ad esigenze artistiche tecniche oppure condizionati anche a dei limiti delle nostre della nostra attrezzatura però attenzione attenzione perché utilizzare iso alti può comportare una grana nelle fotografie che viene chiamata rumore digitale che va a degradare la qualità delle nostre foto quindi fotografare utilizzando iso alti è sempre un compromesso tra scattare una fotografia di qualità oppure non scattarla affatto facciamo adesso un passo indietro nella storia per capire esattamente gli iso gli iso iso è un acronimo che sta per international standard organization e rappresenta una serie di valori in progressione che determinano la sensibilità delle pellicole e dei sensori ogni macchina fotografica ha una scala di iso che è leggermente diversa ma ci sono però dei valori comuni che si trovano praticamente in tutte quante le macchine fotografiche solitamente si parte da un valore di iso base 100 e aumenta progressivamente del doppio rispetto al valore precedente ogni volta quindi che si passa da un iso al successivo si raddoppia anche la luminosità della fotografia e questo passaggio viene definito in foto stop nelle poterne macchine fotografiche è possibile anche variare gli iso con valori intermedi per una gestione ancora più precisa della luminosità e per essere più puntigliosi parliamo di iso nativi ma adesso di iso estesi gli iso nativi sono quelli preimpostati dal produttore della macchina fotografica che garantiscono le migliori prestazioni della macchina fotografica appunto l'intervento l'intervallo di iso esteso invece permette un aumento della luminosità delle immagini però a discapito della qualità perché è una simulazione digitale e vi ricordo che sono una simulazione digitale anche gli iso fra i valori di iso nati della macchina fotografica quindi per esempio sono iso estesi anche iso 2000 iso 4000 iso 5000 eccetera ecco è sempre meglio cercare di utilizzare gli iso nativi quando è possibile e poi è preferibile aumentare la luminosità dell'immagine in post produzione piuttosto che utilizzare gli iso estesi perché in post produzione diciamo si può aumentare la luminosità in maniera molto più selettiva senza compromettere tutta quanta l'immagine quindi vi do un piccolo consiglio e cioè nelle macchine fotografiche moderne si trova anche la modalità di iso automatica che può essere un grande alleato soprattutto in quelle in quei momenti in quelle situazioni di fotografia dinamica si può impostare quindi un range di iso massimo entro cui la macchina fotografica da sola stabilirà stabilirà il valore più adatto alla scena e adesso è il caso di sfatare alcuni falsi miti su sugli iso perché no non aumentano la sensibilità del sensore alla luce ma agiscono sulla luminosità dell'immagine finale e poi gli iso non sono l'equivalente della sensibilità delle pellicole asa di una volta e la sensibilità di un sensore alla luce è unicamente frutto di scelta del produttore della macchina fotografica che abbiamo e questa scelta dipende dalla dimensione del sensore dal numero di pixel e dalla loro dimensione oppure anche dalla loro capacità di assorbire i fotoni e sono tutti quanti elementi che non hanno niente a che vedere ecco con con gli iso e poi ancora c'è da dire no cioè gli iso non aumentano la quantità di luce catturata perché questo è il compito esclusivo nei tempi di scatto e del diaframma gli iso entrano in gioco nel processo di trasformazione fra la luce catturata dalla macchina fotografica e l'immagine digitale che vediamo poi con i nostri occhi e in questo processo intermedio gli iso intervengono amplificando questa traduzione e quindi gli iso non hanno niente a che vedere con la luce quindi mentre è vero che gli iso più alti possono portare ad un aumento del rumore delle nostre immagini questo però è spesso il risultato di una compensazione per la mancanza di luce piuttosto che un difetto proprio degli iso ricordatevi perciò che gli iso sono uno strumento potente che abbiamo a disposizione noi fotografi non dobbiamo avere paura di utilizzarli ma dobbiamo soltanto farlo con coniezione di causa parliamo adesso dei tempi di scatto iniziando dando subito una definizione perché il tempo di scatto o di esposizione è il periodo durante il quale la luce passa attraverso il diaframma e colpisce il sensore digitale oppure la pellicola questo è il meccanismo che determina l'esposizione alla luce della pellicola e del sensore diaframma e tempi di scatto sono gli unici due parametri che noi fotografi possiamo gestire per regolare la quantità di luce che entra nella macchina fotografica mentre invece gli iso come abbiamo già detto regolano soltanto la luminosità dell'immagine finale non hanno niente a che vedere con la quantità di luce che la macchina fotografica riesce a catturare a questo punto però forse il caso di fare una piccola precisazione perché non si ha mai senso di parlare di esposizione trattando soltanto di uno di questi due parametri quindi o soltanto il tempo di scatto pure soltanto il diaframma ma bisogna sempre parlarne parlare della loro accoppiata perché l'utilizzo di uno strumento permette di compensare le mancanze di un altro e viceversa di conseguenza è sempre l'accoppiata tra tempi di scatto e diaframmi che gestisce il livello di esposizione corretta della nostra fotografia però a che cosa servono esattamente i tempi di scatto ecco principalmente i tempi di scatto hanno due funzioni la prima l'abbiamo già detto è quella di gestire la quantità di luce che entra influenzando direttamente l'esposizione della nostra fotografia un tempo di scatto breve significa che il diaframma sarà aperto per un periodo molto limitato risultando una fotografia tendenzialmente più scura o viceversa il secondo aspetto invece la seconda funzione dei tempi di scatto è più creativa perché i tempi di scatto permettono di catturare di rappresentare il movimento un tempo di scatto breve congela l'azione mentre invece un tempo di scatto lungo permette di rappresentare il flusso del movimento come le scie delle macchine il fluire dell'acqua oppure il muoversi delle nuvole nel cielo quindi per cristallizzare un istante del tempo come per esempio congelare un soggetto veloce dobbiamo utilizzare un tempo molto rapido ricordando però che con un tempo rapido la luce avrà poco tempo per entrare all'interno della scena di contro se invece volessimo rappresentare il movimento di un determinato soggetto come appunto come ho detto la scia delle macchine il movimento dell'acqua lo spostamento delle nuvole nel cielo o una persona che cammina avremo bisogno di un tempo lento che permette al soggetto di muoversi e quindi di essere di rappresentare proprio il movimento all'interno della nostra fotografia e questo perché un tempo di scatto più lento la luce avrà più tempo per entrare all'interno della nostra fotocamera perciò la scelta di un tempo veloce oppure di un tempo lento dipende dall'obiettivo che hai mentre scatti sia in mente di cristallizzare l'istante nel tempo devi utilizzare un tempo veloce se invece vorrai rappresentare il movimento utilizzerai un tempo di scatto più lento i tempi di scatto si misurano in secondi ovviamente oppure in frazioni di secondo e quasi tutte quante le macchine fotografiche condividono una scala di valori comune che può paliare però leggermente in base al modello della macchina fotografica oppure anche in base all'età della tua fotocamera una funzione interessante che presenta su alcune fotocamere la funzione bulb che è indicata normalmente con la lettera b sul selettore questa consente al fotografo di tenere premuto il pulsante di scatto e quindi di esporre il sensore alla luce per tutto quanto il tempo in cui si tiene premuto questo permette al fotografo di fare delle lunghissime esposizioni oppure fare anche degli scatti di durata variabile per catturare per esempio scene notturne oppure effetti artistici particolari adesso però provo a fare degli esempi per essere un po più puntuale un po più esaustivo e cioè se per esempio volessimo fotografare un soggetto molto veloce come una macchina in corsa dovremmo utilizzare un tempo di scatto molto veloce come per esempio sopra un due millesimo di secondo oppure un quattro millesimo di secondo se invece volessimo fotografare un soggetto che non è proprio veloce come una macchina e potrebbe essere per esempio un cane che corre un gatto allora in questo caso sarà sufficiente utilizzare un tempo sopra un cinquecentesimo di secondo se invece volessimo fotografare dei soggetti in un movimento lento come per esempio una persona che cammina potrebbe bastarci già un tempo intorno a un duecentocinquantesimo di secondo per dei soggetti invece che sono in leggerissimo movimento come i fiori l'erba gli alberi è sufficiente utilizzare un tempo intorno a un centoventicinquesimo oppure poco più per soggetti statici ovviamente con una casa un portone eccetera diciamo che il tempo di scatto è più o meno indifferente perché non si muovono e quindi non c'è nessun movimento il soggetto che fotografiamo però non è l'unica cosa che si muove quando scattiamo una fotografia perché proprio nel momento in cui facciamo clic ci muoviamo anche noi e possiamo introdurre un movimento nella foto quindi nel mosso non voluto questi nostri movimenti che sono per lo più inconsapevoli che compiamo mentre respiriamo semplicemente stando in equilibrio oppure prendendo la mira provocano un effetto che è chiamato micromosso perché non è un mosso voluto ecco per evitare questo fenomeno il fotografo deve utilizzare dei tempi di scatto sufficientemente veloci da contrastare il proprio movimento indipendentemente dal tipo di foto che stiamo cercando di fare quindi vanno fatte delle considerazioni sulla velocità del nostro soggetto che vogliamo immortalare ma vanno fatte delle considerazioni anche sulla propria capacità di essere il più fermi possibile nel momento dello scatto per non avere questo micromosso esiste una formuletta per calcolare il tempo di sicurezza ecco questo tempo è esattamente il reciproco della lunghezza focale fratto i millimetri della lunghezza focale della lente che stiamo utilizzando per esempio se stiamo utilizzando un 35 millimetri sarebbe sufficiente utilizzare un tempo di scatto di un trentacinquesimo di secondo ma vi raccomando però di ricordare sempre che vanno usati millimetri equivalenti della lunghezza focale sul full frame quindi se utilizzate per esempio una fotocamera psc e una micro 4 terzi dovete sempre moltiplicare il numero di millimetri per il fattore moltiplicativo perciò un 35 millimetri su una fotocamera psc equivale più o meno un 52 millimetri sul full frame quindi bisogna utilizzare come tempo un cinquantesimo di secondo sulla psc e un settantesimo di secondo sul micro 4 terzi ecco il tempo di sicurezza ci indica il tempo di scatto al di sotto del quale non è mai consigliabile scendere però personalmente io ho sempre ragionato calcolando esattamente il doppio di questo tempo di sicurezza perché le mie mani diciamo che non sono propriamente ferme come quelle di un chirurgo ovviamente però testate sempre la vostra fotocamera la vostra attrezzatura e adattate questi valori alla vostra situazione specifica e adesso che abbiamo trattato tutti questi aspetti tecnici dovete ricordarvi però che la pratica è fondamentale quindi dovete prendere la vostra macchina fotografica dovete iniziare a sperimentare anche voi con soggetti statici e poi gradualmente passare a dei soggetti in movimento capire come gestire i tempi di scatto vi permetterà di padroneggiare la vostra macchina fotografica e di scattare in modo sempre più consapevole e anche creativo passiamo adesso al diaframma cercando di spiegarvi in modo semplice e chiaro che cos'è e perché è così importante anche nella fotografia anche in questo caso parlando del diaframma iniziamo dando una definizione base il diaframma è un foro solo un foro nient'altro che un foro e questo foro è situato all'interno dell'obiettivo della nostra macchina fotografica ecco questo foro che ha una dimensione regolabile permette alla luce di entrare e colpire il sensore digitale delle macchine fotografiche moderne oppure la pellicola nelle macchine analogiche il diaframma è formato da un insieme di lamelle che si muovono per chiudersi oppure aprirsi creando il foro più possibile circolare il numero di lamelle del diaframma varia da obiettivo a obiettivo e da produttore a produttore un numero maggiore di lamelle permette un'apertura più circolare del foro del diaframma che è quello che determina anche lo sfocato smooth quello cremoso che tanto diciamo la verità piace a noi fotografi per vedere esattamente il diaframma in azione si può regolare o la ghiera dei diaframmi su obiettivi manuali oppure utilizzare il pulsante di anteprima di profondità di campo delle macchine fotografiche moderne e questo ci permetterà di vedere come le lamelle che si chiudono e si aprono all'interno dell'obiettivo creando proprio il foro del diaframma il diaframma al pari dei tempi di scatto ha due compiti fondamentali il primo è la gestione dell'esposizione e il secondo invece la regolazione della profondità di campo parlando di esposizione il diaframma influisce direttamente sulla quantità di luce che entra nella macchina fotografica a diaframmi perciò molto aperti quindi un foro grande entrerà più luce rendendo l'immagine tendenzialmente più luminosa mentre invece a diaframmi più chiusi entrerà meno luce rendendo un'immagine tendenzialmente più scura e i fotografi lavorano sempre con la combinazione di dimensione del diaframma e tempi di scatto per ottenere l'esposizione desiderata il secondo la seconda funzione del diaframma invece è la profondità di campo cioè quell'area all'interno della fotografia dove i soggetti sono perfettamente a fuoco un diaframma aperto quindi grande tipo f2 comporta una profondità di campo ridotta che è ideale per i ritratti con i fondi con gli sfondi sfocati mentre invece un diaframma più piccolito per esempio f16 aumenta la profondità di campo rendendo più elementi a fuoco e questo viene utilizzato tipicamente nei paesaggi il diaframma viene misurato con dei numeri preceduti dalla lettera f come f2 f8 f4 eccetera eccetera questi numeri sono il risultato dalla divisione tra la lunghezza focale dell'obiettivo e il diametro dell'apertura del diaframma valori più grandi di f indicano un'apertura più piccola e viceversa come vi dicevo prima è contro intuitivo però una volta che si capisce poi rimane chiaro e impresso adesso un aspetto che vale la pena considerare quello della diffrazione che è un fenomeno che si verifica quando il diaframma è molto chiuso come per esempio f22 e questo può ridurre la nitidezza delle nostre foto ecco perché è bene saperlo per cronaca vi dico che la luce è un fenomeno ondulatorio cioè una vera e propria onda luminosa che parte dal soggetto che vogliamo fotografare arriva a colpire la nostra macchina fotografica se durante questo percorso la luce trova un ostacolo come è proprio il nostro diaframma l'onda luminosa riesce sì a passare ma subisce tutta quanto una serie di deviazioni ed interferenze che si ripercuotono sull'immagine finale che colpisce il sensore della nostra macchina fotografica e questo significa che quando il foro del nostro diaframma è troppo piccolo quindi da f16 in su si introduce all'interno della nostra fotografia un effetto di diffrazione piuttosto evidente che si traduce in una perdita di nitidezza anche se abbiamo messo a fuoco nel modo corretto adesso sempre per cronaca voglio fare una precisazione sul numero di lamelle che compongono il diaframma che abbiamo dell'obiettivo che abbiamo a disposizione io ho detto che avere un obiettivo con più lamelle è un bene perché il nostro diaframma tende ad avere una forma più circolare ecco ci sono due casi in cui fotografando riusciamo ad avere un riscontro diretto del numero di lamelle del nostro obiettivo e questi casi sono quando fotografiamo delle fonti luminose all'interno dell'area di messa a fuoco quindi all'interno della profondità di campo e il secondo caso invece è quello opposto cioè quando fotografiamo delle fonti luminose che sono all'esterno della nostra profondità di campo quindi quando sono fuori fuoco nel primo caso si ha il famoso effetto a stella o effetto sunburst che ammettiamo lo abbiamo provato tutti quanti a cercare almeno una volta nella vita che sia quando le fonti luminose della nostra fotografia sembrano effettivamente delle stelle con tante punte in questo caso se il nostro diaframma è composto da un numero pari di lamelle allora avremo stelle con il numero di punte pari al numero delle lamelle del nostro diaframma se invece il numero di lamelle del nostro diaframma è dispari le stelle le punte delle stelle delle nostre fonti luminose avranno un numero di punte che è il doppio del numero delle nostre lamelle quindi se vogliamo fotografare l'effetto stella questo effetto sunburst sicuramente sarà più bello con più punte per cui servono più lamelle e servono dispari nell'altro caso invece in cui fotografiamo fonti luminose che non sono a fuoco quindi fuori dalla profondità di campo queste fonti luminose tenderanno ad avere la stessa forma del nostro diaframma ovviamente sfocata questo significa che con il diaframma molto circolare queste lucine avranno queste lucine sfocate saranno molto circolari quindi saranno anche molto belle da vedere se invece il nostro diaframma è composto da poche lamelle che chiudendosi formano più che un cerchio un poligono in quel caso le luci sfocate che avremo avranno la stessa forma di questo poligono e non saranno proprio bellissime da vedersi e anche qui che abbiamo visto e compreso in maniera più approfondita il diaframma anche stavolta vi invito a sperimentare con la vostra attrezzatura quindi a scoprire con l'uso del diaframma come può influire sulle vostre fotografie sulla vostra creatività dandovi offrendovi un sacco di possibilità vediamo adesso anche uno strumento fondamentale che ci aiuterà tantissimo nella scelta della giusta esposizione delle nostre fotografie e questo strumento è l'istogramma l'istogramma è uno strumento grafico che è usato in fotografia per per rappresentare la distribuzione della luminosità in una immagine il l'istogramma è composto da due assi l'asse x che mostra la gamma dei toni dai più scuri quindi a sinistra e più chiari a destra e l'asse y invece indica la quantità di pixel per ciascun tono di luminosità questo strumento è fondamentale proprio perché fornisce un'istantanea precisa in matematica della distribuzione luminosa dell'immagine e aiuta ovviamente il fotografo a comprendere se l'immagine è correttamente esposta oppure se presenta delle aree bruciate quindi troppo chiare oppure completamente nere e quindi troppo scure l'istogramma è particolarmente utile in condizioni di scarsa visibilità o di luce ingannevole come si dice cioè quando il display della nostra fotocamera potrebbe fornirci una rappresentazione accurata dell'esposizione per esempio quello che potrebbe apparirci come una fotografia luminosa sul display della nostra macchina fotografica in realtà potrebbe essere una fotografia troppo scura ecco avere l'istogramma attivato sulla fotocamera permette di regolare sempre i parametri di scatto in tempo reale per assicurare anche una distribuzione ottimale della luminosità all'interno della foto l'istogramma può essere diviso in tre aree principali quelle delle ombre i mezzi toni e le luci ogni area ovviamente fornisce delle informazioni sulla distribuzione dei toni dell'immagine quindi le ombre mostrano i pixel più scuri i mezzi toni mostrano i pixel di luminosità intermedia e le luci ovviamente mostrano i pixel più chiari nell'immagine in post produzione l'istogramma serve anche per aiutare a regolare i valori di luminosità e di contrasto assicurando che l'immagine mantenga i dettagli sia nelle aree più scure ma anche nelle aree più chiare a questo punto però è anche importante sapere che l'istogramma varia a seconda della scena che stiamo fotografando e questo è il motivo per cui non esiste mai un istogramma perfetto perché per esempio una fotografia fatta di notte avrà sicuramente più pixel scuri mentre invece una fotografia fatta sulla spiaggia a ferragosto avrà molti più pixel chiari e la chiave perciò è quella di comprendere come interpretare l'istogramma in relazione al soggetto che stiamo fotografando e i nostri obiettivi creativi e poi è fondamentale anche considerare che l'istogramma che è mostrato nella nostra fotocamera rappresenta l'immagine in jpeg e non il file raw che contiene molte più informazioni e quindi anche più margine di recupero in post produzione e questo praticamente significa che mentre l'istogramma potrebbe indicare delle aree bruciate oppure delle aree nere in realtà a volte è possibile recuperare dei dettagli nel file raw durante proprio la post produzione e quindi visto che le macchine fotografiche moderne hanno una maggiore capacità di catturare informazioni nelle ombre io personalmente scatto sempre sotto esponendo un po per non perdere i dettagli nelle alte luci e in sintesi quindi l'istogramma è uno strumento essenziale per chiunque perché fornisce un feedback immediato sulla distribuzione luminosa dell'immagine aiutando a fare scelte informate consapevoli durante la ripresa e la post produzione dobbiamo imparare perciò a leggere utilizzare l'istogramma per migliorare le nostre fotografie assicurando che ogni scatto sia esposto correttamente che mantenga i dettagli nella foto sia nelle alte luci che nelle ombre ora per concludere e per fare anche un veloce recap di tutto quello che ci siamo raccontati ci addentriamo nel mondo dell'esposizione della luminosità ve l'ho detto sono due pilastri della fotografia che spesso vengono scambiati però per dei sinonimi ma in realtà hanno dei significati molto diversi distinti pensate infatti all'esposizione come al ritmo della vostra fotografia il battito cardiaco che decide quanta luce deve entrare nella foto e nel linguaggio tecnico l'esposizione si riferisce al tempo durante il quale il sensore della macchina fotografica oppure la pellicola è esposto alla luce questo parametro è manipolabile attraverso i due soli parametri del diaframma e dei tempi di scatto dove il diaframma agisce come una porta d'ingresso per la luce e i tempi di scatto e il tempo in cui questa porta resta aperta e poi c'è la luminosità che il termine utilizzato per descrivere come percepiamo l'immagine finale c'è la sensazione visiva che ci dice se un'immagine è chiara scura o una via di mezzo mentre una fotografia sottoesposta ci sembra scura una fotografia sovraesposta ci sembra ovviamente chiara però attenzione perché ovviamente non è un indicatore affidabile della qualità di un'immagine perché qui entrano in gioco i famigerati iso cioè il terzo parametro della triade di esposizione proprio perché gli iso regolano la luminosità senza influenzare direttamente la quantità di luce catturata e perciò parlando di iso ecco chiuso il nostro triangolo di esposizione tempi di scatto diaframmi e iso tutti e tre collaborano per dare vita alla magia della macchina fotografica e quindi tutti e tre ognuno di questi elementi ha il suo momento da protagonista a seconda del tipo di scatto che vogliamo realizzare ecco abbiamo finito adesso che avete un'idea chiara su esposizione luminosità siete pronti tutti quanti a diventare dei veri e propri maestri di fotografia f4 è sempre qui per accompagnarvi passo passo in questo viaggio fotografico condividendo ancora consigli come abbiamo fatto oggi ma anche qualche piccolo trucchetto e perché no anche qualche risata durante il cammino vi chiedo però soltanto di non avere paura di sperimentare e di sbagliare perché è soltanto così che si cresce e si diventa migliori e adesso siete arrivati fino a qui voi siete i miei eroi perciò commentate con banzai e alla prossima ciao